Buonasera, bentornati su Gente di Ruolo, sono Antonio, sono ancora seduto comodamente sulla sedia del Master di questa campagna di Ultima Forsan e con me i giocatori che questa sera cominceranno il loro ritorno verso Milano dopo aver razziato abbastanza frettolosamente Vercelli quindi Fabio nei panni di Bartolomeo Ciao a tutti Detto Giasso e Frank nei panni di Federico Monterosso Buonasera a tutti e Marco nei panni di Cosimo col suo fedele Falco, la compagnia Buonasera Bene, l'ultima volta avevate, anche c'è e non si vede, nella voce del Master un PNG di nome Francesca che vi accompagna cosa abbastanza strana il fatto che abbiate un PNG, ma vabbè L'altra volta quasi non ce l'avevo più Esattamente, poco ci è mancato che non ce l'aveste più Ma vabbè dai L'ultima volta appunto avevate ottenuto finalmente le spoglie del Santo che eravate venuti a recuperare scavandole dalla cripta della chiesa Il vostro ratto è stato veloce ed efficace, siete scappati via dalla città senza incorrere in ulteriori incontri da parte dei morti che vi hanno reso molto difficile innanzitutto raggiungere la chiesa E' abbastanza facile in realtà lasciare la città e adesso avete appena attraversato il ponte su quel che era il fosso di difesa della città e vi state incamminando verso la villa fortificata che è stata ripulita in modo che Girolamo Cardano potesse fare i suoi esperimenti in nome dei visconti che hanno sede in Pavia E' mattina, poco dopo l'alba praticamente, quindi considerando che è inverno un'alba abbastanza tardiva saranno all'incirca le 9 del mattino Del, Frank e tutti in il diario 22 dicembre Ok, è il 22 dicembre 1517 E state appunto camminando sulla dura terra ghiacciata con attorno la bruma che imbianca i campi Verso la villa Con voi appunto c'è Francesca, questa donna dal mezzo volto nascosto dall'elmo e probabilmente straziato Visto che l'elmo non porta neanche la feritoia per l'occhio E' abbastanza abile a combattere e da quel che avete visto probabilmente odalisca rossa oppure ex odalisca rossa Dal modo molto peculiare di combattere Ecco, a voi quindi avete l'asino Avete legato all'asino una specie di portantina e avvolto dentro delle coperte il corpo del santo E Federico porta con sé, avvolta in una pesante tenda di velluto, quel che resta della sua lancia A voi Stai attento a quella cosa, Federico Sì, non ci sono esattamente a mio agio, però Bene Possiamo tornare dal buon Cardano adesso Penso che sia la soluzione migliore per tornare rapidamente alla civiltà Sì, se mai che il Vescovo ci dia qualche extra in più per riportargli la cosa per Natale qua Certo, certo Dobbiamo affrettarci, abbiamo fatto una promessa Vorrete mica scontentare il Vescovo Federico Assolutamente, con quello che ci paga Cioè, volevo dire, per la gloria di Dio Sempre, se l'ho dato Ci avviamo a passare un spedito Probabilmente Se Francesca Sarebbe il caso di dare le nostre notizie a Milano E come pensa di riuscirci? Girolamo sicuramente ha dei contatti verso Milano o al peggio verso Pavia Potremmo così dare notizie di noi, almeno con un giorno di anticipo È abbastanza importante, penso, per il Vescovo dare notizie di questo ritrovamento Visto che vuole farne sfoggio alla Messa di Natale Dunque, potremmo averne appunto maggior gloria Se gli diamo il tempo di preparare il tutto Sì, potrebbe essere un'idea interessante Anche se Non so se ci sia qualcuno che potrebbe essere interessato a Come possiamo dire, sollevarci da questo carico che trasportiamo Stai ancora pensando di chi e l'altro uomo Aspetta, come si chiamava il signor Clausten Tutto è possibile, mio buon Federico Però Intanto raggiungiamo il laboratorio dell'inventore E vediamo qual è la situazione lì E se siano pronti ad accompagnarci come ci avevano promesso Se non altro passeremo una notte al caldo Dobbiamo anche riferirgli della melagrana Molto ucetto Sperando che non sia successa nessuna disgrazia nel frattempo Il mio Bartolomeo La speranza per te è sempre Sì, sì, sì Ma io E sia giusta con fare superstiziosi calzoni Continuando ad avanzare Francesca ti guarda E Borbotta a confronto mi fai sembrare ottimista C'è sempre da imparare E niente, camminate una Poco, un quarto d'ora Un venti minuti Nella Nella fredda mattina Fino ad arrivare a vedere appunto la villa fortificata Lungo il fiume Che era stata appunto ripulita E presa come base da Girolamo e i suoi uomini Visto che ci siamo però Prima di andare avanti Considerando che la giornata di ieri È stata una giornata abbastanza densa Vi chiederei un tiro di vigore Per ora più parvi Allegramente Un livello di fatica Visto che comunque avete lavorato L'intera giornata Da mattina a sera E riposando anche male Nella canonica E tenendo turni di guardia Immagino che sì Sia stata una cosa abbastanza tesa Non sono abituato a fare queste cose Troppo lavoro manuale, vero? Giovene Sceglierata E neanche tu Neanche tu Federico Sei molto abituato a montare di guardia Appare Effettivamente Con quei due Siete un po' fuori forma entrambi Probabilmente intirizziti dal freddo E abbastanza affaticati Dalla serata Insomma Almeno io ho una certa età Beh Io sono più vecchio di te Non vuol dire niente Tu sei più giovani da dentro Sì Tutte scuse Tutte scuse Comunque Quando arrivate in vista della villa Appunto vedete il Vedete il giro di ronda Che normalmente si tiene Ben nascosto dietro l'orlo Delle murature Ma vedendo avvicinare voi Come persone attese Si palesa Alza un braccio In gesto di saluto Indicandovi il passaggio Che già l'altra volta avete fatto Che in pratica Un piccolo cunicolo scavato Che permette di passare il muro Sottoterra E quindi Muovendosi sui gomiti Passare all'interno Allora Ci avviamo Cercando di l'asino Come l'abbiamo portato Dentro la volta scorsa La volta scorsa Penso che Beh Asino e cavalcature Probabilmente si Le hanno fatte entrare Dal portone principale O meglio Il portone posteriore Quello con cui Fanno entrare uscire merci Però diciamo Lo si apre Anche l'altra volta Probabilmente avete lasciato I cavalli fuori Fino a che Non c'è stato Modo e tranquillità Per essere sicuri Di portarli dentro Quindi magari verso Metà giornata Quando la nebbia si alza E c'è una buona visibilità Allora ci si può prendere Il rischio di aprire i cancelli E fare quel che si deve Ecco Normalmente per le persone Che vanno e vengono Si entra e esce da lì Quindi dobbiamo trascinarci Anche il colpo del santo Dentro il cunicolo Perché non lo lascio fuori Abbandonato A meno che Non chiediate Di aprire Di aprire i portoni Insomma È una cosa che Normalmente non fanno Se non ce n'è necessità Perché normalmente Insomma L'asino può anche aspettare fuori Legato A quel che resta Delle adiacenze Della masseria Però con una buona motivazione E allora io faccio Oì di casa Sappiamo come entrare Dentro al palazzo Qui ma dovete aprirci Il portone E trasportiamo un carico Molto importante Che non può aspettare fuori Un minuto di più Non vi preoccupate E sterre fatto E dice Dunque che carico portate Ehi Siamo andati nella città A recuperare Una reliquia preziosissima Le ossa del santo E faccio Indico la barella Con il corpo mummificato Ti pare che possiamo Lasciarlo qui fuori In mezzo alle intemperie E la nebbia del mattino Forza Aprite la porta Fa un segno della croce Quando dici Le spoglie del santo E pur non sapendo Di che santo sia Il segno della croce Va bene comunque A che fa Sì Chiamerò il capitano E le altre guardie Attendete Attendete sul retro Della villa Bene Spostiamoci Spostiamoci Che non troveremo più Domani mattina Anch'io ho questa paura Se non fosse così Inquietante Ci dormirei di fianco Gascio Tu devi sempre Riferire tutto Vero? E come Come avremmo potuto Altrimenti Facci aprire la porta? Con una bottiglia Di vino Poteva davvero Restare fuori Con una bottiglia di vino Vorresti lanciare Una bottiglia di vino Sul Contro le guardie? No Offrirgliela Ah Beh ma Beh ormai è fatto Quindi Ormai Non vedo perché piangere Sul latte versato Sul vino in questo caso Ce la berremo stasera Come premio Per le nostre imprese Certo Abbiamo ancora Benù Un litro Di vino Pregiatissimo Nella cantina Del Gascio Tu ti Devi averlo Parso di vista Ma io ho trovato Cinque bottiglie Di divino santo Ah sì? Ah Il signore Vede e provvede Eh sì Il signore Vede e provvede Dopo che abbiamo ammazzato I morti Perfetto Perfetto Questo è Un ottimo Di ottimo Mospicio Aspettiamo Cosa stanno aspettando Da aprire queste porte Cominciò Bene Da lì a poco Il tempo Che fate Queste chiacchiere Il portone Comincia ad aprirsi Dopo che i pesanti Catenacci Con Ampi rumori Vengono Sganciati E Vedete Ad attendervi Di là Dal portone Come dire Il manipolo Completo Delle guardie Quindi sei uomini E Girolamo Poco dietro Il Giovane Figlio Di Cardano Che vi sorride Con Il suo solito Entusiasmo Man mano Che Entrate Portando Portando con voi L'asino E il Strano carretto Che Che è legato All'asino stesso E dunque Siete tornati Tutto a posto Tutti vivi Tutti interi Abbiamo persino provato Il vostro simpatico Aggeggio E Sgrana gli occhi Che già sono un po' Sproporzionati Visto La sua natura Di Corrotto Sgrana gli occhi E Dunque Funziona Ne perdiamo Questa sera A Cina Se non vi dispiace Abbiamo fatto Un viaggio Siamo stanchi Interizziti Abbiamo Meno uno Dalla fatica Perduto Guardo Non tenetemi Sulle spine Almeno funziona Funziona Sì 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 Ha fatto il suo dovere Egregiamente Bisognerà ovviamente Testarlo ancora Sul campo Ma Già Molto utile Così Così com'è Complimenti Un'invenzione davvero Potrebbe rivoluzionare Bene bene Abbiamo anche E comincia a darvi pacche Sulle spalle Quali buone notizie Ma avete fatto colazione Sì 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 Ma No Venite Venite Mangeremo insieme E mi racconterete Delle vostre gesta E Della melegrana Sì un attimo Dobbiamo trovare un luogo Per Conservare Le spoglie Del santo Un santo? Lontane dal Melegrane Lontane dal Melegrane E aspettatrici Che santo dunque Fatemi vedere Sono curioso Qui Gli faccio scenno Che c'è appunto La parella Con il corpo Mumificato Alzo le bottiglie Di che santo Mi ha recuperato Beh San Crespino Bene bene Portiamolo dentro Non può Non può certo Rimanere qui Indica Sicuramente Un paio di Un paio di ragazzi Che erano lì Probabilmente i figli Più giovani Che avete già Già riconosciuto E parlando a loro In francese Dice Andate dentro A liberare uno dei tavoli E fate ordine E veloci Mi raccomando E vedete i ragazzini Che corrono dentro A dare A dare notizia Di questo Di questo comando E poi Guarda voi E dice Lo porteremo dentro Certo Non può più Non può star qui Con l'asino E nel frattempo Alle vostre spalle Hanno chiuso Di nuovi portoni E gli uomini Stanno di nuovo Riaffacendando Alle loro Mansioni Certamente Dei occuparmi Del santo Da solo In questa stanza Ok Gli altri? In cui Eventualmente Fare colazione? Vabbè sì Intanto Le cose importanti Fare colazione Poi vorrei parlare Con Mastro Girolamo Ok Nessuno ha niente In contrario Quindi che Come dire Giasso Si arrangi Ad accomodare il corpo E Non si muove Da lì Ok Ti danno una mano Come dire Semplicemente Almeno a portare Il Il rotolo di coperte Perché insomma Comunque È ingombrante È leggero Per quello Però almeno ingombrante Quindi fino Fino alla stanza Magari ti danno una mano Giusto per non sbattere Sono stipite E far danni Dopodiché Se chiedi di rimanere Da solo Come dire A sistemare Le spoglie Puoi restare Tranne che Girolamo ti chiede di Dare comunque un occhio Insomma Non ho mai visto Non ho mai visto Le reliquie di un santo E Sì Insomma Sarei Curioso Se permette Certo 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 Srodolo Un po' La coperta E gli faccio vedere Il corpo È incredibile Ma Quanto vecchio È questo Questo corpo Tantissimi anni Incorrotto Guardi Sempre Sempre Che stia Dormendo A che ti guarda E per un attimo C'ha il dubbio Perché Non è bello Quando i morti Dormono E poi Scaccia via Il pensiero Dice Ah Beh Un giorno Capiremo anche queste cose Bisogna Semplicemente studiare L'alchimia Farà progressi Da qui A degli anni Non ne ho dubbi Non ne ho dubbi Se lo dice lei E E si allontana Senza troppa Con più curiosità Che non reverenza Per il corpo A tutti gli effetti E Poi si sposta Nella sala Nella sala da pranzo Insomma E A quel punto Se vuoi anche te Puoi andare O comunque dimmi Quando hai finito Il mullo Che fine ha fatto Dov'è? Ah probabilmente L'equivaggiamento Che c'era sul mullo Lo legano Da qualche parte Ma è lontano Dalla cucina Non è vicino A questa stanza In cui mi trovo io Ma pensa Che tutto È abbastanza vicino Nel senso Che la corte interna Di questo posto Sarà 10 metri per 10 Ok E questo E questo Spazio a faccia Sulla corte esterna Dove c'è anche Il posto In cui sta l'asino Sì Con le vettovaglie Addosso ancora Ah con tutto Quello che gli avete Lasciato addosso Sì Perché nessuno Si mette a toccare La vostra roba Se volete togliere La roba E metterla A qualche parte No 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 Va benissimo così E allora nel Quando non c'è Più molta gente In giro Vado a recuperare Sull'asino Un'altra coperta Le pale In picconi E faccio un involto Più o meno Simile a quello Del corpo del santo E lo dispongo Sul tavolo E porto l'involto Col corpo del santo Su fuori Ok E lo rimetti Sulla portantina No 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 Lo rimetto Sul mulo Come se fosse L'equipaggiamento Che ho portato Indietro Quindi come se fossero Picconi e pale Avvolte in una coperta Ok ok Va benissimo Perfetto E poi vado a pranzo A colazione Sì Colazione Che a tutti gli effetti È Grassa e pesante Come Come un pranzo E Quando arrivi C'è Probabilmente Cosimo Che sta narrando Gli eventi Della Gli eventi Della giornata All'interno Di Vercelli E faccio particolare Attenzione Cioè Gli dico Particolarmente Dell'amico gigante Fatto con Le sue pale E a quel punto Anche lì È interessatissimo E Ti dice Ma sapreste Disegnarmelo Posso provarci Perché sarebbe Importante Capire Capisce Cioè Come sono caduti I pezzi Perché magari È quello Il problema Ma A dirvi la verità Avevo qualche Dubbio Perché Quando ci sono Troppi morti Tendono Un po' Ad accatastarsi Però Sì È un problema Che si può risolvere Insomma Ok Mi immagino In questo silenzio Tutti quanti fermi Con il cucchiaio A mezz'aria Sì Sì Ma assolutamente Guardandolo De tipo Ma Come Sospettavi E Appunto E poi ti domanda Se puoi fargli Se puoi fargli Uno schizzo Adesso O dopo Tanto si distrae Facilmente Nel senso che Se vai avanti Col discorso Poi Si perde via Ad ascoltare Il resto Del discorso Sì Beh Continuo Spiegandogli Anche la mela Grande Di come Ha Smacciullato Le Le ossa Mendo si Stava chiudendo Anche se non Mi ha avuto Un colpo Ah Interessante Inaspettato Inaspettato E L'avete ancora E' ancora Intera dopo Sì sì Certo L'abbiamo Recuperata Vi ricordo Che è tutta Ultra sporca Di Di attramento E Dentro una Sacca di salamandra Probabilmente Sacca di una salamandra Sì L'abbiamo Però Non è proprio pulita La pulizia Eh Questo è un problema Interessante Quanta gente C'è nella stanza? Siete praticamente Voi E Un ragazzo Che ha servito Che ha servito Il pranzo E dopo di che Ha chiesto Permesso E si è spostato Ai laboratori Quindi siete solamente Voi E poi Mastro Girolamo Lei Conosce bene Tutte le Cioè E' molto interessato Da sapere Giusto? Certo Un attimo Nel mio zaino E prendo Il quadernino Dove ho copiato I disegni Del morto Ah Sì Abbiamo trovato Un Un morto Che Ha scritto Ha disegnato Questi E Sembrava essere Un morto che disegna? E non solo Addirittura Intagliava il legno Assicuro Mastro Cardano Che quel morto Non è che mi ha visto Mi ha guardato Mi ha guardato Negli occhi E si è Nascosto Di una cassa Cioè Nascosto Ha capito Cioè Maledizione Un morto Che disegna Che si nasconde Questa cosa È abbastanza Incredibile A sentirsi Ok Quindi niente Vedete che Girolamo Vi guarda Stupefatto Quando parlate Di un morto Che si Che si è nascosto Che addirittura Intagliava il legno E dunque Dite che ha fatto Questi Questi disegni Sì E guarda con attenzione Gli appunti Che hai preso Che hai preso Sul quaderno Che erano Penso A riguardo anche Come aveva disposto I sassi Sulle Mensole Sì sì esatto È un po' Un po' di tutto E le incisioni E scuota la testa E dice Questa cosa È estremamente Misteriosa E che fine ha fatto Poi quel morto? Mi giro Verso Qualcuno Che non c'è Diciamo che Purtroppo Prima di poterlo Eaminare Ha fatto La fine Di tutti gli altri morti Il flagello È una cosa Misteriosa Per quanto Ci si conviva Da secoli Continua a stupirci È un nemico È un nemico Che elude Per adesso La nostra scienza Ma Ma un giorno Ma un giorno Ne avremo ragione Ma Non ho tutta questa fiducia Mastro Ma Se la dice così Non l'avete? Guardi i progressi Che abbiamo fatto Guardi La guerra Macarba Che si sta combattendo Nell'est Ed ovvio Che Prima o poi Ce la faremo Sì E ricordo anche Delle storie Che si raccontavano Per cui Milano Era caduta E ricordo anche Le orde del flagello Magno I quattro branchi Che erano rimasti Che pure Hanno avuto ragione Di noi Più e più volte Quindi Oh su via Non siete a fare Pessimista Via via Però avete ragione Per questa mattina Limitiamoci A fare colazione Ah beh Dimenticavo Oltretutto Mi sono arrivate Missive da Pavia Abbiamo una Un trasporto navale Che ci aspetta Poco più a sud Di qui Dove Questo fiume Si ragguaglia Con il Po Ottima notizia Signor Cardano Avrei bisogno Di conferire Un momento con voi Ah ah Beh Certo Finite pure Di mangiare Ma anzi Potete dire E si ferma E dice Ma Di cosa Trovando strano Il fatto che A tutti gli effetti Cioè State parlando E tu gli chiedi Di parlare Quindi per un attimo La cosa non gli torna E ti guarda Cercando Riscontro Si E qua Adesso siamo solo noi C'è ancora il ragazzetto No no Siete solamente voi Quell'altro ha servito Le cose in tavola Probabilmente riscaldate Dopo la loro colazione E E poi si è allontanato Dalla stanza Ecco Le porte sono ancora aperte Ma insomma Non c'è Per adesso Nessun altro Nella stanza Ok Vedete Mastro Tiro fuori lentamente La lancia Dalla razza Che avevo preso Per ricoprirla A quanto pare Questa lancia Ha un curioso Meccanismo Che inavvertitamente Ho attivato In qualche modo Non ho la mia idea Ha rilasciato Una curiosa Sostanza Appiccicosa Di colore rosso E durante Un combattimento Contro alcune Alcune larve Beh Dire che ha avuto Un brutto effetto È dire poco Fin che dici questo Vedi Francesca Che ti guarda Sgranando gli occhi Come per dire Ma Cosa Gli stai Dicendo Dannazione Ah beh che cazzo Me ne frega Io voglio una lancia Come nuova Quello che mi interessa E quel che dico io C'è quasi Costato un occhio Della testa Eh sì Ok Nel frattempo Che tu Dici questo Che ti impiega Una decina di secondi A dirlo E nel frattempo Appoggi la lancia E scosti Le coperte Vedi Girolamo Che già si stava Affiondando Come un bambino Sul giocattolo Al che Francesca Si alza Dalla tavola Gli dà una manata In pieno petto Allontanandolo Tipo di due passi Facendolo quasi Inciampare Sullo sgabello E Gli sbraita Contro una Stai attento Non è un giocattolo Non Toccarla A mani nude E poi Guarda te Come per dire Ma Sei un criminale A piantarla Sulla tavola Così come se niente fosse La guardo peggio E poi faccio Sì Prima che Madonna Sazzi Qui Ci fermasse Mi fermasse La fermasse Stavo per dirle Questo meccanismo Ha avuto un pessimo effetto Mi perdonerà Mastro Cardano Ma Voi Nelle vostre condizioni L'attramento Insomma Ecco Siete corrotto Ecco Stateci attenti D'altra parte Voi siete Indubbiamente Uno dei più abili Inventori Che Mi siano Fra i nuovi regni Quindi Avrei Avrei piacere Che voi Ci buttaste Un occhio Ma con estrema Attenzione Ecco A che lui Nel frattempo Si ricompone Ricammina In avanti Un po' Un po' Trabballando Questa volta Molto più Circospetto Prima tutti gli effetti Stava per fiondarsi Le mani Le mani nude Sulla Sulla parte di testa Della lancia Per guardarla Per rigirarla E adesso invece Si avvicina Senza Toccarla Tenendo le mani Sul tavolo Dice Vedo Effettivamente Questa strana sostanza E E Ha partito anche Un curioso meccanismo Che ha tagliato Quale impugnatura Vede E gli mostro Ma Non ho la minima idea Di che cazzo ho fatto Per fare questa cosa Sembra Un Qualche tipo di Di meccanismo A scatto Da come me lo descrivete Beh Si dà il caso Che io sia Abbastanza esperto Di questo E Dunque Sì Se state chiedendo La mia consulenza Avrete tutta la mia attenzione Questa cosa Mi incuriosisce Molto più di quanto Possiate immaginare E Posso dunque Dare un'occhiata Prego Prego Mastro Cardano Se riesci a sistemarmarmela Ma Non penso potremmo Farlo qui Mi serviranno I miei attrezzi Dunque Possiamo spostarci Nel mio laboratorio Sedite Il vostro laboratorio Qua nella villa? Oh sì Sì Che gli si fionda Al fianco E comincia a dire Quella cosa Sulla lama È Pericolosa Probabilmente più Dell'attramento E Ora non ho idea Voi nella vostra condizione Ma Non la prenderei sotto gamba Fate conto Di essere mondo E Ponetevi gli stessi problemi Anche se Sì Forse è difficile Da immaginare Ma Ripulite bene Quella cosa Da Qualsiasi cosa ci sia Prima di mettervi in mano Altrimenti Potreste essere un pericolo Più di quanto Non siate già E poi Si morde mezzo la lingua Per quello che ha detto Però Relativamente Girolamo Che da padrone di casa Si vede Comunque messo in dubbio Insultato così In realtà Fa Abbastanza spallucce Vedete che Probabilmente È Abituato a essere trattato Anche molto peggio Di così